6 della mattina andiamo a sciare ci aspetta un viaggetto la macchina è pronta 6 e 13 penso che andremo fino a ragazzi dopo un'ora di coda siamo riusciti a arrivare in cima giornata abbastanza bella sembra abbastanza figa piccolo aggiornamento ragazzi la neve è fantastica veramente fantastica sarà tre anni che non trovo una neve così speciale quella bella liscia senza buche senza la neve che c'è qua veramente perfetta giornata perfetta adesso andiamo fino ad alleghe andiamo a mangiare qualcosa dopo andiamo a fare qualche altra pista e speriamo che il tempo tenga visto che non c'è sole ma c'è un po di nuovo siamo sulla cima del mondo non è vero siamo sulla cima di alleghe e questo è il panorama adesso andiamo giù e dopo appunto andiamo a mangiare c'è una fame bestia ciao 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 Cosa?